Il popolo iraqueno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene. Francesco è già in Iraq e col pensiero, nell'attesa di sbarcare venerdì a Baghdad, come già voleva, ma non riuscì Giovanni Paolo II. «Accompagnatemi con la preghiera», chiede in tv all'udienza del mercoledì. Da tempo desidero incontrare quella chiesa martire nella terra di Abramo e insieme con gli altri leader religiosi. Faremo anche un altro passo avanti nella fratellanza tra i credenti. E nell'attesa febbrile di accoglierlo a Baghdad, il patriarca caldeo Cardinale Sacco invita i tanti scettici sulla possibilità che il viaggio papale potesse realizzarsi a far chiarezza con se stessi. Il Papa, sottolinea, è determinato a partire ed emozionato. E all'agenzia Vaticana Fides Sacco parla di sogno che diventa realtà. Ma Francesco, annota anche, sa che in Iraq non soffrono solo i cristiani, non viene ad alimentare il settarismo. Intanto un altro pensiero del Papa va ai sanguinosi scontri in Myanmar per appellarsi ancora alle autorità del paese perché il dialogo prevalga sulla repressione e perché il cammino verso la democrazia possa riprendere attraverso il gesto concreto della liberazione dei diversi leader politici incarcerati.